Ah Non c'è il mio ragazzo, non c'è il mio ragazzo. Non c'è il mio ragazzo. Non c'è il mio ragazzo. E' grande. E' grande. E' grande. Biampa, chi è? Chiè! Fonca! Fonca! Biampa! Chiè! Chiè! Qu'yessi? Chiè È resultado. il comoda il figlio delitto e proprio per te io ho parlato di un'occhi mazie e non è così io ho capito io ho capito io ho capito io ho capito non lo so non lo so se il 28 di settembre 2020 il percorso che tutti i miei gli gruppi gli giocano gli giocano gli gli giocano Čeris godtō Čeris. Čeris. Čeris boma. Čeris. Čeris boma. Čeris boma. E' un po' di più di più di più di più. heeeyyy aieeein mi te mi va mi uhum i worked with my family i bought another one and my room yeah i love my family yeah i love my family i love my family i love my family I love my family Ciao!